Siamo andati esattamente dove dovevamo andare, è l'area di pricing di cui vi ho parlato nei giorni scorsi. Non è una bella fase, non è una fase che entusiasma un po' il mercato delle criptovalute, ma era una fase attesa, era una fase di cui eravamo a conoscenza e ancora una volta si sottolinea l'importanza dell'analisi degli scenari per comprendere dove siamo, che cosa sta succedendo nel momento in cui succede. Sappiamo quello che sta succedendo, lo avevamo già ragionato su questo scenario, era possibile che succedesse una cosa del genere e anche i livelli di pricing sono stati esattamente quello. È finita qui oppure no? Ci sono due scenari nuovi che si vanno a delineare, ma c'è stata una super conferma da questo atteggiamento di Bitcoin che ha segnato e ha dato il là a quella che secondo me è l'ipotesi migliore rispetto alle due precedenti di cui vi avevo parlato nella precedente video. Ben ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Questa volta la moneta non ci ha preso neanche per un tubo perché l'abbiamo lanciata e indicava rialzo, bensì in realtà è andato tutto al contrario e continua a indicare rialzo, ragazzi. Forse forse anche questa volta un rimbalzino ci può stare, ma siccome il prossimo video lo faccio domani, allora secondo me questo lancio della moneta. Va bene ragazzi, allora super video oggi di recap, ieri non ci siamo visti perché era festa e quindi ho detto sposto il video a giovedì anche perché tanto la giornata di ieri stava andando a Capitombolo quindi c'era poco da fare anche perché scendeva e basta, quindi le informazioni sarebbero state approssimative e assolutamente superficiali perché non si era completato nemmeno la singola giornata. Allora, una serie di informazioni molto rilevanti per quanto riguarda Bitcoin e anche per quanto riguarda Ethereum per il breakout di questo livello che sancisce intanto un punto chiave per tutti gli amanti dell'analisi ciclica e cioè il ciclo inverso annuale, cioè cicli inversi ragazzi sono cicli che ragionano sui massimi e partono da un massimo e finiscono su un massimo al contrario appunto dei cicli normali, standard che partono da un minimo e finiscono su un minimo, in sostanza ci danno un'inquadratura migliore di alcuni movimenti e soprattutto ci aiutano se ci sono una serie di dubbi sull'analisi ciclica a darci un quadro generale poi funzionano anche per dare delle conferme appunto come in questo caso e sono utili anche se non essenziali. Allora, per quanto riguarda questa fase, il breakout avvenuto da questa candela dell'1 maggio segna l'inizio del ciclo annuale inverso da questo punto qui, cioè da questo massimo iniziato di nuovo annuale inverso. Questa cosa è assolutamente buona, è positiva. Perché? Perché significa che siamo già nello svolgimento di questa struttura ribassista e questo anche ci dà un significato. Questa struttura ribassista non era ancora da iniziare perché se il mercato, come vi dicevo nei precedenti video, da qui fosse andato a tentare un nuovo massimo, allora spostava tutto più in là. Alla fase ribassista sarebbe iniziata più in là. Invece è iniziata già qui, quindi ci stiamo togliendo il pensiero. Questo è il significato perché tanto volente o non volente questa zona ribassista sarebbe dovuta iniziare. Quindi a questo punto meglio se è iniziata a marzo, ragazzi. E' questo il concetto. Ci stiamo togliendo il, diciamo, sassolino dalla scarpa. Quanto tempo è in atto? Da 50 giorni, 49 giorni. Abbiamo visto nel video recap di tutti i cicli dell'Halving, quello di lungo periodo di cui vi ho parlato, che questi cicli, se erano più o meno di ribasso, potevano esporsi nell'ultima fase, almeno è stato così, tra i 30 e i 70 giorni. Questo tipo di ciclo io vi avevo detto che sarebbe stato molto più probabilmente da 70-80 giorni. Ciò significa che ancora c'è un po' di tempo per creare questa fase di minimo, congestione, laterale, nuove discese, eccetera. Il primo target di pricing è stato raggiunto perché nello scorso video vi ho detto più volte 56-58 come aria ed ha funzionato in questo momento come primo baluardo di supporto. Ma nel video di oggi andiamo a vedere il secondo baluardo di supporto. Se non regge questo livello, dove andiamo a finire? Perché per reggere questo livello noi abbiamo bisogno, in questo momento, di uno scenario preciso. E se questo scenario preciso non si va a delineare, questo livello non reggerà nei prossimi giorni e quindi saremo indirizzati a fare nuovi minimi anche su Bitcoin. Ma se invece questo scenario di cui ora vi parlo reggerà, allora saremmo in tutt'altro contesto e secondo me potrebbe essere interessante. Allora, i punti cardine che sono stati chiariti sono molto semplici. Il primo l'abbiamo chiarito, l'annuale è inverso iniziato, siamo nel ciclo ribassista, di solito durano 70-80 giorni queste fasi in questa fase del burran di Bitcoin. Siamo a 50, ne mancherebbero una trentina massimo, 20-30 giorni che su Bitcoin, ragazzi, un mesetto di ribasso picchia e fa anche molto male. Non è detto che lo fa, ovviamente, proprio così, quindi già siamo in una buona fase. Quindi questa zona e questi sono dati che sono inconfutabili e il mercato ci ha dato la conferma. A questo punto, dove siamo arrivati in questo momento, può essere un livello di minimo sufficiente al mercato affinché ci sia una ripresa? Dipende da un discorso, ragazzi, solo e unicamente un discorso. Allora, io qui vi ho indicato quelli che sono dei cicli mensili. Intanto, il breakout dell'1 maggio ha invertito anche il ciclo mensile che è realizzato in questa zona indicandolo come un ciclo ribassista. Perciò questo ciclo o termina o il mercato fa nuovi minimi. Non ci sono altre soluzioni. Per terminare, deve avere una lunghezza media adeguata e, teoricamente, 18 giorni non lo sono. Se c'è un troncamento su questo livello di tempo, è sicuramente stato un troncamento dovuto a un ciclo superiore e, appunto, è quello il concetto. Allora, affinché questo movimento sia definitivo in base a questo momento, ma non definitivo in termini di tutto questo processo, cioè definitivo parlo di questa fase che è iniziata da questo minimo, da questo massimo qui. Affinché sia conclusivo di questa fase, c'è solo una possibilità che qui sia andato in fase di chiusura il ciclo trimestrale di Bitcoin. Cioè, un ciclo che dura da circa 80-110 giorni, più o meno, in media. È riuscito a fare anche qualcosina di più, ma sono delle differenze. Se esiste questo ciclo trimestrale, perché poi qui entriamo in eccezioni cicliche complesse, quindi non vi voglio tediare, soprattutto se non siete esperti in questa cosa, non la comprendete, vi confondete ancora di più le idee. Però, sostanzialmente, sappiate che affinché questo movimento che è iniziato qui di struttura ribassista sia terminato, per essere terminato, dobbiamo aver troncato e chiuso un ciclo superiore, quindi un trimestrale. Se non è stato chiuso un trimestrale lì, quel movimento ribassista continuerà negli prossimi giorni, probabilmente fino alla prossima settimana. Non c'è soluzione da questo punto di vista. Perciò, anche qui, abbiamo dei dati molto significativi e molto indicativi, perché abbiamo dei dettagli sul ciclo mensile che indica che non è proprio un ciclo mensile completo, questo qui, e che il fatto appunto che possa essere un troncamento deriva solo e esclusivamente dal fatto che i precedenti erano corti e che appunto questo potrebbe essere stato una lingua di buyer che raccordava i cicli precedenti ad un trimestrale, quindi una complessità ciclica, diciamolo così. Da questo punto di vista attenderei, perché in questo momento intanto un'eventuale fase di ripresa dovrebbe avvenire esclusivamente con un'inversione di breve periodo su alti time frame, qui siamo time frame daily, probabilmente potremmo assistere ad inversioni intanto su uno dei miei time frame preferiti, il 90 minuti, si fa a moltiplici di 15 di solito con i time frame, ragazzi, soprattutto per gli amanti della ciclica. Allora, qui probabilmente potrebbe avvenire una inversione, ma solo e unicamente il superamento di alcuni livelli, di cui il primo ragazzo è addirittura a 64, indicherebbe un cambio radicale oppure dovrebbe fare una struttura fatta così, sempre su time frame più brevi e poi invertirlo in questo modo. Allora, in un contesto del genere potrebbe essere significativo il livello di inversione. Al momento qui potrebbe fare semplicemente il classico rimbalzo del gatto morto per poi continuare questa fase ribassista. Quindi questa è l'ipotesi che vi dicevo, se non è stato chiuso il ciclo trimestrale. Se è stato chiuso il ciclo trimestrale a truncata e questo minimo bassa, l'unica alternativa è che faccia un po' di trading range in questa area, poi sfondi questa zona qui. Questo è un grafico, potete usare anche l'orario, se non avete la versione premium di TradingView, il bio orario, l'orario vanno bene, è la stessa cosa, non cambia niente. E poi da qui un'inversione. Se avviene una figurazione del genere, allora la possibilità di un ciclo trimestrale che è stato chiuso qui, potrebbe essere validata e la vedremo dopo. Al momento io mantengo il concetto che il minimo deve essere ancora fatto. Per me a livello di probabilità, e a questo punto ha una probabilità maggiore, direi 55-60% contro 45-40% della fase che qui sia stato troncato un trimestrale. Anche perché in realtà il trimestrale ha ancora spazio ce l'ha, perché qui siamo a 99 giorni e vi dicevo possiamo arrivare anche più là. E poi soprattutto per il fatto che precedentemente non era mai avvenuto il ciclo trimestrale, bensì un semestrale corto da 134 giorni. Quindi a volte i trimestrali non esistono proprio, cioè non avvengono, non si formano. E quindi in questo contesto bisogna valutarla questa ipotesi ragazzi. E noi qui abbiamo un dato molto interessante, cioè una struttura che adesso vi cancello tutti questi cicli mensili e vi faccio comprendere questa cosa qui, ho fatto poi in caso li ridisegno. Qui abbiamo un dato, cioè abbiamo la questione dei famosi 57-60 giorni, che era uno dei primi scenari di cui vi avevo parlato, cioè il contesto che qui potremmo aver creato una specie di ciclo da 60 con un altro ciclo da 60 che chiude un movimento simile a questo. E quindi che il trimestrale in pratica non esiste. Questo ne avevamo parlato qualche mesetto fa, in effetti è un po' di tempo fa, però ribadisco che c'è questa possibilità. A tal proposito, se così fosse, e quindi stiamo andando a completare un ciclo da 56-60 giorni, questa è la metà di quel ciclo, portando appunto, come vedete, 28-30 giorni, dipende dal minimo che utilizziamo, la metà di questa struttura ciclica, e quindi in sostanza spostandoci intorno ai 58-60 giorni qui, quindi 17 di maggio. Questa view è al momento quella che io prediligo per una serie di motivi anche di forma ciclica, ed è da valutare. L'unica cosa non coincide con un grafico che adesso vi mostro, cioè con quello di Ethereum, perché Ethereum è un po' strano in questa fase. Comunque, allora, un'eventuale ripresa del ciclo trimestrale ci darebbe un respiro da questa fase, ma non sarebbe comunque, a prescindere, definitivo. Perché? Perché noi stiamo in quella fase, come vi sto dicendo da un po', che stiamo andando a prenderci il minimo di chiusura di un ciclo maggiore, che è un annuale corto, che deve essere fatto tra maggio e giugno. Questo discorso qui, in pratica, ci lascia poche possibilità. Cioè, o qui è truncato proprio l'annuale corto di Bitcoin, quindi è un'anomalia abbastanza rilevante, soprattutto può succedere, ci mancherebbe nei mercati, però lo stride un po' i denti, insomma, gli operatori sapete come sono, nessuno sta comprando in questo momento, c'è un motivo perché nessuno compra in questo momento, perché c'è una serie di segnali che non sono idonei, no, a questa cosa. Quindi, insomma, poi alla fine gli acquisti non arrivano a meno di situazioni particolari e quindi non si può rovesciare questa fase. In pratica, se da qui inizia un nuovo trimestrale, potrebbe essere semplicemente un trimestrale finale ribassista da 60 giorni circa, che va a completare tutto una specie di ciclo che poi porta a una fase di questo tipo e quindi il minimo sarebbe addirittura spostato poi a luglio, cosa possibilissima ai primi di luglio, ragazzi. Non è assolutamente anomalo, vedete qui l'1 luglio, fine giugno, quindi non cambia assolutamente niente. In pratica, concettualmente, secondo me, o continuiamo a scendere e poi facciamo l'ultimo mensile che chiude tutta questa fase e ci finisce a metà giugno, oppure facciamo un nuovo trimestrale corto che inizia da questa fase, ci dà respiro per una decina di giorni, ma poi incomincia a scricchiolare nuovamente perché dobbiamo andare a chiudere l'annuale. Quindi, in linea di massima, una fase di ripresa bullish molto consistente ha poca probabilità in questo momento. Aspettiamo un po' di tempo. Questo significa che non dobbiamo tradare eventuali inversioni come quella che vi ho mostrato su questo grafico, che non dobbiamo dire se qui fa una congestione così e io vado a breccare, poi non faccio il long. Qui assolutamente no. Io qui, se fa una cosa del genere, farò il long. Perché? Perché non conviene, non conviene a livello operativo non fare questa operazione. Cioè, conviene farla e mettere uno stop piuttosto che non farla. Perché nel momento in cui io non vado a operare in questo modo, e vi ho dato praticamente l'operazione prestampata, cosa succede? Succede che se abbiamo fatto un errore in queste analisi e in questi scenari, siccome stiamo prevedendo scenari, quindi aleatorietà a go-go, no? A manetta, ragazzi, proprio a go-go, dobbiamo mettere in conto che possono esserci degli errori che noi non abbiamo visto in questo momento, ok? Quali sono i scenari preferiti? E quindi io per quello, anche se faccio il long in questo momento, se avviene sempre l'inversione, perché se non avviene l'inversione non farò nessun long, ci vado con i piedi di piombo, no? E dico, ok, però mi proteggo, metto lo stop, sto attentissimo a quell'operazione perché è molto pericolosa ed ha poca probabilità che si vada a verificare. Però, se poi ci va, io so a cavallo, ci sto dentro comunque. Quindi quell'operazione va comunque tradata perché mi protegge dal rischio di un errore nell'analisi degli scenari ed è importantissima perché mi fa stare sul cavallo, sul carro, se qualcosa non è stata prevista. Anche perché, vi ripeto, a me gli scenari troppo semplici non mi piacciono e non mi sono mai piaciuti. Quindi questa cosa è così. Però vi assicuro che Bitcoin a volte mi ha punito per questo, per il mio dubbio, no? A volte gli scenari che facevamo erano così precisi, così perfetti che io non stesso non ci credevo e Bitcoin mi ha punito perché diceva no, era esattamente quello. Quindi vanno usati, però allo stesso punto io preferisco operare così andando comunque a fare questo trade. Però, ragazzi, in maniera molto chiara e molto netta, la possibilità che da qui si vada a fare una ripresa definitiva e che quindi questa zona sia stata conclusa non è proprio alta. Tra le altre cose abbiamo raggiunto anche dei livelli importanti ma c'è un altro livello di target che vi devo mostrare tra pochissimi minuti. Quindi importante, ragazzi, non ve ne andate perché il secondo livello di target è un livello più ghiotto ed è interessante. Useremo, tra le altre cose, quest'altro grafico che vi ho mostrato qui proprio per vederlo. Vi faccio vedere anche il grafico di Ethereum per comprendere la questione e poi, a proposito, prima di ETH io adesso vi mostro questo grafico qui che vi evince in maniera chiara e netta che a livello di crypto altcoin queste sono la total market card la total market card scusate, ragazzi, delle crypto meno Bitcoin e Ethereum e le stable coins che sono inutili per fare questi calcoli. Guardate a livello settimanale come non è cambiato nulla perché qui noi eravamo a livello di minimo questi sciacquori ci sono stati ma in realtà siamo nella stessa struttura precedente non è cambiato niente stiamo continuando la struttura precedente stiamo chiudendo un ciclo annuale su questa su questa grafico questo significa che non è che stiamo finendo il carburante stiamo chiudendo un ciclo annuale ragazzi è il prossimo che dà risposta a queste cose attenzione per questo io vi sto attenzionando più volte questa fase non fatevi ingannare da segnali che sembrano e non sono non fatevi ingannare da questo momento mi raccomando tranquillità e occhi puntati sul grafico e soprattutto approfondite in questa fase perché sono le fasi più importanti allora ne parliamo poi magari un'altra volta ma è questo il grafico che volevo farvi vedere allora ETH perché ETH la questione cambia cambia radicalmente perché questa fase di ETH che è stata iniziata qui ed ha fatto questa swing up and down è troppo veloce ciò significa che non abbiamo non abbiamo alcun modo di sapere e purtroppo in questo caso a differenza di Bitcoin non c'è se qui era stato chiuso un trimestrale per ETH e quindi l'inversione avvenuta qui ha invertito il trimestrale ma è troppo corto oppure lo sta chiudendo adesso quindi se lo sta chiudendo adesso come il precedente che era da 105 giorni lo sta chiudendo in questa fase allora vuol dire che tra poco noi assisteremo allo scenario di ripresa col nuovo trimestrale per ETH e difficilmente Bitcoin non lo farà quindi a quel punto lo scenario numero 2 che vi dicevo quello dei 60 giorni con una piccola parte di app e poi declino successivo fino a fine a metà giugno fine giugno potrebbe essere preso in considerazione lo vedremo tra pochissimo perché ETH dovrà dare immediatamente risposta di questo se sta chiudendo un trimestrale tra un po' ETH ritorna in trend rialzista almeno di breve di brevissimo direi io ecco più che di breve altrimenti vuol dire che il trimestrale è già ribassista e questo sarebbe un segnale negativissimo per la regina delle cripto perché in un contesto di questo tipo significerebbe che qui è stato chiuso un trimestrale il trimestrale nuovo è già ribassista e quindi almeno 60-70 giorni se li fa e in pratica scende fino a fine giugno cioè una roba del genere può altalenare fare così ma continuerà a scendere fino a fine giugno questa ipotesi è da vagliare perché c'è ne avremo risposta credo entro 7-8 giorni perché se da qui non parte un settimanale rialzista un nuovo mensile nonno ce n'è per questa questione qui e quindi è molto molto pericoloso un altro scenario che secondo me è interessante da visualizzare proprio perché questa struttura di ETH tra le altre cose essendo più o meno a 15 o se lo fate partire qui 20 giorni non può non può diciamo spingere tantissimo al rialzo se siamo nel ciclo precedente quindi se spinge il rialzo qui è stato troncato ed è stato chiuso il trimestrale è molto semplice e qua anche qui ok un po' di dubbio ma chiarezza immediata fra pochi giorni e da lì noi ce ne andiamo a ribaltare lo scenario anche su ETH su Bitcoin e secondo me potremmo prenderlo in considerazione allora ultimo grafico secondo livello di prezzo per Bitcoin che potrebbe essere raggiunto dopo questo che abbiamo diciamo ampiamente previsto uso questo termine che non mi piace mai però in questo caso ci sta negli scorsi video era questa zona qui di pricing di cui vi avevo già parlato facciamo il freccione rosso c'è un'altra zona di prezzo che corrisponde a un fair value gap una tipologia di analisi molto particolare di cui ho fatto anche un video ragazzi recuperatelo nel mio canale basta scrivere FWG fair value gap strategy e lo trovate tranquillamente allora ci sono diversi modi di applicare questa strategia alcuni la applicano in modo estremamente rigido a me quello che interessa nei mercati finanziari non è mai la rigidità delle regole perché i mercati non la rispettano mai d'altronde sono aleatori e anche hanno bisogno di oscillare bensì il concetto che c'è dietro che invece è molto importante quindi io personalmente applico questa strategia anche con regole un po' allargate tra virgolette al contesto ed è quello che mi interessa in un determinato momento anche perché non lo uso per operare vi dico francamente quindi non mi interessa il livello preciso si può utilizzare per operare a quel punto dovete applicarla con regole ferre perché altrimenti non avete poi i trigger operativi nel momento in cui fate una cosa del genere un'altra zona di fair value gap è questa area qui ragazzi perché tutta questa zona qui è un fair value gap cioè strutturato a livello settimanale tra due settimane a dire la verità quindi è all'interno di una struttura mensile in pratica ciò significa che in termini tecnici abbiamo un secondo livello di area di pricing che è compreso fra 48 e 45 mila dollari diciamo che se bitcoin non dovesse reggere questa struttura si avvicinerebbe a questo livello di supporto un supporto classico ma la trazione sarebbe verso quest'area quindi 48 45 mila dollari questo è un buon livello ragazzi non è detto che non regga anche perché se iniziassimo magari lo scenario con il nuovo trimestrale potremmo avere magari un trimestrale nuovo un po' più fortino nella fase di ripresa e poi una fase ribassista che non va a intaccare tanto questi minimi e magari ci avvicina a questo livello di supporto che è qui tra le altre cose che è in questa zona cioè 52 quindi potrebbe magari fare una cosa del genere se inizia lo scenario col trimestrale e poi andare a fare una cosetta così in shadow non è che sia così tanto anomalo tra le altre cose vi faccio notare anche un'altra questione è l'ultima di oggi oggi video un po' pienotto che da qui a qui abbiamo fatto il 22-23% che nell'anno dal 2022-2023 e i primi mesi del 2024 è stato sufficiente a frenare i movimenti ribassisti di bitcoin quindi in termini di estensione di volatilità ci siamo in termini ciclici non ci siamo probabilmente il mercato troverà una quadra e visto anche la tipologia di ciclo non mi fa strano che possa allargare questo livello di volatilità un po' di più e spingerlo anche intorno a questa zona poi andare giù di qui meno 36% è pesante una cosa del genere ma fino a questo livello per chiudere anche tutto quello che ci siamo detti entro giugno più o meno di quest'anno non c'è niente sì strano va bene allora detto questo fatemi sapere cosa ne pensate e alla fine ragazzi tutti i puntini si stanno unendo e la figura si sta formando ancora una volta stiamo a cavallo di questo movimento in academy siamo usciti dalle posizioni grosse a 68 mila e circa 500 dollari sono dell'idea che alla prossima rientro come vi stavo dicendo se mi fa un'inversione perché è conveniente semplicemente evitare danni quindi mi conviene fare questa cosa immediatamente utilizzare lo stop fatemi sapere anche voi come state operando in questa ottica entro una settimana massimo decine di giorni inizia la fase del tentativo di fare stock picking anzi crypto picking sulle altcoin secondo me una settimana e si inizia in questa fase perché potrebbe essere molto ghiotta vediamo anche Ethereum che fa perché potrebbe essere il paro di questo scenario ciao a tutti